bella a tutti ragazzi sono Mirko bentornati su gameplay channel e su total war rom 2 allora amici visti un po i vostri consigli suggerimenti qualcuno mi ha detto di andare in africa problema è che al momento in africa c'è massiglia effettivamente mi avete fatto notare cosa che non avevo notato assolutamente che massiglia si è ingrandita veramente veramente tantissimo guardate qua queste sono tutti tutti insediamenti praticamente di massiglia quindi anche questa sarà una bella gatta da pelare sicuramente perché vi faccio vedere tutti i territori che ha guardate qualche roba cioè guardate qua quanto caspita e grossa quelli in bianco sono appunto tutti i territori che ha preso massiglia quindi è veramente veramente grossa come fazione quindi io per il momento me la terrei ancora mica e piuttosto cercherei magari di eventualmente portare poi qualcun altro a fare quella guerra a loro diciamo che c'è anche cartagine che gli sta facendo guerra ma cartagine ha perso tutto è rimasta praticamente una caccolina da che era anche cartagine appunto una fazione enorme quindi in realtà a parte cartagine hanno la confederazione gallica che li è appunto ostile e poi hanno i cimbri ora i cimbri non so bene dove siano vabbè sono addirittura qua in cima hanno i cimbri e vabbè hanno insomma una forza decisamente piccola comunque io quindi per adesso non vorrei andare contro massiglia e iniziare un'altra mega guerra contro una fazione gigante piuttosto vorrei cercarmi comunque di prendere questi territori che ci mancano qua al nord ovvero mi interesserebbe coria siccome abbiamo già noreia vorrei prendermi coria e poi eventualmente octodorus così in questo caso almeno andiamo a completare questa provincia coria non è un problema perché abbiamo la confederazione celtica ho già tolto con loro tutti i trattati e adesso farò passare qualche turno loro hanno questo unico insediamento con all'interno però due eserciti completi hanno due eserciti full quindi sono sicuramente due eserciti belli tosti più poi ovviamente anche la guarnigione quindi sicuramente andrò con i due eserciti che hanno conquistato appunto milano e genova che sono le lance di ares e i campioni di olimpo così almeno insomma speriamo di riuscire appunto a catturare coria dopo eventualmente posso pensare di invece dichiarare nuovamente guerra appunto alla confederazione gallica per prendermi anche octodorus poi al massimo vediamo se portare avanti la guerra con loro e prendermi anche tutti questi territori qua nord oppure fare come abbiamo fatto prima cioè diciamo accettare poi un trattato di pace che sicuramente ci chiederanno perché rispetto a noi hanno una forza decisamente inferiore e quindi tenerci però quantomeno tutta questa provincia quindi io inizierei intanto a mandare la nostra stratonice a tentare un assassino al loro generale di questo esercito visto che la probabilità è dell'83 per cento quindi mandiamo gli intanto la nostra spia così vediamo se riesce diciamo nell'intento di uccidergli il generale hanno ucciso cioè ha ucciso il generale dell'esercito mamma mia gran bella cosa questa perché gli abbiamo sicuramente indebolito molto l'esercito questo va bene non è granché anche questo va bene non è fortissimo come esercito un po di cavalleria leggera poi qua sono tutti i guerrieri con lancia soldati con spada corta vabbè si sono comunque due eserciti full quindi ovviamente bisognerà stare attenti perfetto allora quindi io ho fatto tutto quello che dovevo fare per cui facciamo un bel fine turno non apprezzano acqua avevo rovinato sia un evento un banchetto perché rischiava di danneggiarmi però purtroppo è andata male quindi abbiamo perso 5 va bene come dicevo ecco appunto cartagine è stata completamente distrutta va bene qua tutte le varie cose abbiamo completato le altre strutture che ci mancavano e va bene quando dichiarato l'indipendenza ok dunque quindi vediamo molto velocemente quelli da level appare per cui abbiamo il nostro arconte per cui gli diamo assolutamente questo allora vediamo un attimino intanto la politica come sta andando siamo sul 52% comunque mi avete detto che finché siamo su questa cifra va bene l'unico modo che ho per far level appare quindi i miei generali è quello di farli combattere e questo ovviamente è quello che cercheremo di fare intanto è buono perché veltone è il generale dell'impero di simone che quindi l'esercito uno degli eserciti che sicuramente stiamo sfruttando di più e che vorrei tenere qua anche perché nel momento in cui mi metterò appunto contro massiglia vorrei mandarci ovviamente l'esercito di simone quello di angelo che sono comunque quelli più forti quindi a sconfiggere qua questa fazione tengo questi due eserciti che secondo me per adesso bastano e avanzano allora intanto la nostra stratonice gli facciamo fare un altro assassino sempre del generale gli stermino tutti i generali nemico assassinato ok sto facendo una strage e gli ho ma gli ho distrutto tutto l'esercito ah no ok ne hanno rifatto ovviamente un altro perfetto intanto comunque la nostra stratonice a level appato è diventata veramente letale al massimo e gli aumentiamo assolutamente la diciamo l'abilità appunto dell'uccisione perfetto io avevo fatto anche un'altra spia da queste parti dove mi è andata la mia spia statunice qua e guante ah ok eccola qua perfetto con l'altra spia magari gli andiamo a fare un sabotaggio dell'esercito così questa qua l'ho appena fatta ragazzi questa spia perché ne posso avere tre adesso quindi ne ho una in più per cui questa l'ho appena fatta è stato un fallimento istruttivo però quantomeno ha accumulato comunque esperienza e a noi va assolutamente assolutamente bene allora per cui vediamo un attimino molto velocemente le nostre città così ve le faccio vedere qua abbiamo un più 48 un più 58 nella traccia un più 36 perfetto qua abbiamo addirittura più 60 sì qua lo potrei anche fare ma anche cibo ne abbiamo un sacco per cui non è un grande problema nella pannonia siamo un più 49 noreia più 69 cisalpina più 45 quindi anche qua direi che sta andando assolutamente bene nell'illiria più 54 e in italia più 64 quindi assolutamente perfetto anche qua ok qua mi hanno fatto più 33 ma questa non l'avevo già smantellate no mi sa di no allora 140 alla ricchezza allora mettiamo questo la banchina che ci dà anche un po di guarnigione qua facciamo sicuramente questo ok qua va bene ripariamo magari questo no non possiamo ripararlo allora facciamo questo ci toglie un po di ordine pubblico ma va bene è un altro foro no qua smantelliamo e facciamo qualcos'altro anno e qua avevo messo a fare questo ok no che cavolo ho fatto ma porca misera ho tirato via la nave sbagliato stai lista e lì ok perfetto e qua magna grecia come siamo più 65 perfetto perfetto allora qua possiamo fare questo che non ci toglie ordine pubblico e direi che siamo a posto ok allora facciamo ancora un attimo come siamo come onesta ok perché non vorrei diciamo perdere punti come lealtà praticamente della come ci vedono gli altri per cui facciamo passare ancora un fine turno e aspettiamo ancora appunto questo turno prima di attaccare rendi stato cliente legito no direi di no perché poi se viene attaccato lo dobbiamo anche credo come alleati difensivi esatto si ci pagherebbero i tributi però se poi sono attaccati credo li dovremmo difendere e sinceramente non ci conviene quindi francamente no tanto se mila non non me ne può fregare di meno è questo un patto in un'aggressione te lo posso anche dare ma mi devi pagare però perché cioè non me ne può fregare di meno di diciamo non aggredirti tanto non ti aggredirei comunque perché sei lontano accordo commerciale quello sì questo assolutamente te lo faccio perfetto l'accordo commerciale ragazzi lo faccio perché comunque ci frutta quasi 500 turno e noi va assolutamente assolutamente bene va bene allora direi che andiamo ancora colpire con le spie a questo punto i loro eserciti quindi e guante vami a sabotare la scorta anche di questo esercito se ce la fa vediamo salutaggio non riuscito e ti pareva l'hanno scoperta e va bene con lei a questo punto andiamo ad assassinare nuovamente il loro generale nemico assassinato ma mia una strage ha fatto ragazzi sta spia ha fatto una strage cioè gliene nostri gatti tipo tre o quattro almeno per cui va bene e a questo punto ragazzi attacchiamo dichiariamo assolutamente guerra dichiariamo guerra va beh chiediamo aiuto a tutti ok hanno accettato tutti comunque ok no aspetta perché non mi ha preso altro esercito no aspetta aspetta circonda assolutamente lo circondiamo per adesso ok e ci andiamo a portare anche l'altro esercito volevo provvedere siamo passati a disonesti ma perché io ho lasciato passare un bel po di turni quindi vabbè quindi a questo punto ragazzi andiamo ad attaccare guerra ah no ok sono scappati loro perfetto e allora a questo punto posso prendermi la città è ok così va già meglio non sarà comunque semplicissima e questo mi piace per cui direi di andare assolutamente ad attaccare per cui facciamoci l'assalto va bene ragazzi allora schieramento effettuato quindi ho messo qua davanti come al solito per l'appunto tutti i nostri picchieri con già la falange di picchieri attiva nelle seconde fila appunto gli opliti qua lato diciamo le schermagliatrici di gorgo che ci serviranno appunto per tirare poi magari le farò anche uscire dalla formazione qua la nostra cavalleria cittadina e le baliste ragazzi questa volta l'ho messa al di fuori della diciamo della formazione difensiva con primamente su questa montagnola perché hanno una posizione rialzata e possono effettuare anche un tiro decisamente più lontano quindi assolutamente ottimo infatti stanno già tirando ragazzi stanno già tirando le nostre baliste che inizieranno per l'appunto a fare un po di danno in teoria dovremmo avere anche i nostri rinforzi eccoli qua perfetto che mi andranno a supportare tutti gli altri quindi andiamo già a prendere tutti i nostri picchieri e li mettiamo vanno tutti di là però e vedo e allora i picchieri li mettiamo qua a continuare la formazione perfetto questi altri picchieri e opliti li mettiamo magari anche loro qua dietro a chiudere perfetto le baliste anche io le vorrei portare magari qua ottimo la cavalleria tarantina mettiamo il tiro infocato e la modalità schermaglia e la mettiamo magari da questo lato ok così inizieranno a tirare perfetto arcieri assolutamente tiro infocato e li mettiamo invece qua dietro ok veloci ragazzi dai veloci 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 le baliste non so quanto impiegheranno però queste stanno iniziano a tirare che non tirano quale motivo non tirano ma ragazzi dovrebbero a perché non sono ancora entrati nel campo diciamo d'azione delle nostre balista ok dai iniziate a tirare ragazzi forza ok cavalleria occhio ok dove è stata andata cavalleria ok si mettono qua perfetto ok la cavalleria si mette qua a lato ottimo va bene vediamo i picchieri li ho messi qua ok ecco che parte la nostra balista inizia col tiro perfetto inizia a fare grossi danni iniziano anche le schermagliatrici di gorgo ok perfetto anche la cavalleria è messa qua ottimo allora baliste magari tiratemi a quelli un po' più indietro no 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 non devi andare qua ok si tirate a quelli perfetto che arrivano anche i nostri picchieri ottimo gli arcieri buono va bene magari questa di picchieri mettiamola qua che non vorrei che qualcuno passasse anche di qua come infatti stanno facendo cavalleria mettiamola spostiamola qua e anche questa magari la spostiamo qua così li facciamo tirare assolutamente vai vai iniziate a tirare occhio da chi? ah sarà dai loro tiratori evidentemente balista tiratemi a questi che sono i loro tiratori dai facciamo tirare qua abbiamo gli arcieri perfetto ok arcieri adesso li facciamo tirare a questi voi tirate a loro perfetto attenzione ok qua arrivano i nostri pliti perfetto bella lì vai che la cavalleria parte con il tiro infuocato ottimo picchieri assolutamente con falangi di picchieri mettetevi un po' più in qua a coprire perfetto vai vai colpite loro da dietro ottimo le baliste continuano a tirare perfetto qua abbiamo tutti i nostri mamma mia mamma mia allora questi picchieri magari me li portate qua che così li andiamo a prendere da dietro occhio però non tirarmi ai miei ragazzi aspettate perché sennò questi mi tirano i miei ed è un problema allora questi li facciamo attaccare subito così chiudiamo e li prendiamo alle spalle perfetto e loro mi tirano questi ottimo ottimo va bene va bene baliste continuano a fare veramente un devasto veramente stanno facendo un massacro brave baliste baliste tiratemi sì no anzi tiratemi a questi magari ok allora qua sono quasi schiantati tutti perfetto e questi picchieri li mettiamo qua a prendere il posto di quegli altri che abbiamo appunto fatto girare in questo modo perfetto allora qua occhio alle baliste però perché mi sta tirando un po' troppo vicino ok perfetto via 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 cavalleria togliti dalle balle perché hai finito le munition quindi vammi attaccare questi da dietro così li pigliamo alle spalle e questi ce li leviamo subito di torno perfetto ehm chi è che è qua che cavolo è cavalleria tarantina cosa ci fai qua oh no perché mi sta ah perché se li sta portando in giro cioè dove si gli è portati la cavalleria tarantina fine mappa se li è portati ma non ci credo io ma non ci credo dai venite qua forza cavalleria tornate indietro dove cavolo sono andati questi che spettacolo allora questa cavalleria ok li ha sconfitti si perfetto quindi va bene mettiti per adesso qua ok ehm con gli opliti andiamo magari beh adesso stanno tirando anche i nostri ehm no allora facciamo una bella cosa con questi iniziamo ad andare qua e a prenderli alle spalle quindi vai stessa cosa facciamo con questi allora le baliste tiratemi no 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 tiratemi a questi ok perfetto e questi due me li vanno a prendere assolutamente da dietro quindi vai attaccate e li andiamo tutti a prendere da dietro a questo punto ok allora arcieri tiratemi a loro magari anzi no si tiratemi sempre a questi dai vai allora anche queste unità portiamole assolutamente di qua perfetto e anche questi iniziamo a portarli assolutamente no troppi allora questo questo e questo li mettiamo così e li facciamo attaccare da questo lato perfetto mamma mia mamma mia che legnata ragazzi che legnate ok vai benissimo allora attaccatemi questi perfetto e questi li mandiamo attaccare questi ok vai stoppiamo le baliste però perché sennò fanno danni tirate solo a quelli la stessa cosa queste baliste tiratemi solo a quelli la perfetto vai 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 attaccate e voi andate attaccare questi prima che ci bella lì la balista brava prima che ci facciano il giro voi attaccate questi ok e anche queste baliste andate attaccare questi perfetto voi attaccate loro vai 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 veloci 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 buono anzi baliste si brava attaccate questi a non ci arrivano cavolo no non ci arrivano allora attaccate questi e voi attaccate questi perfetto allora qua fate così qua andate attaccare il loro generale ai picchiere andate attaccare anche voi attaccate no andate attaccare quelli lava chi siete voi arcieri allora aspetta perché gli arcieri gli arcieri gli arcieri li metto qua vai e mi attaccate magari questi ok però mettetevi qua dai perfetto dai dai quelli la sono rimasti un po indietro vai andate attaccare anche voi andate a dare una mano perfetto e vai vai arcieri tirata questi benissimo bella lì ok ottimo ottimo perfetto quelli sono andati ottimo ceri vai tirata questi ma che non vacila nessuno chi vacilla dai 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 forza pusciate ragazzi pusciate dovete pusciare ottimo quelli sono andati scappano quindi attacchiamo anche questi perfetto allora cavalleria tarantina l'altra mia cavalleria dove sparita mi sa che schiantata purtroppo sì mi sa che l'altra mia cavalleria purtroppo è andata occhio però alle baliste che fermati fermati dove la manina perché non mi dà la mano per stoppare le baliste ok questa sì allora ferma perfetto è andato attaccare loro ottimo è anche voi andato attaccare loro ok arcieri è andato attaccare questi vai cavalleria andate ma anche voi attaccare questi dai così siete cavallo facciamo prima credo che ormai non sia più rimasto nessuno credo che ormai non sia più rimasto nessuno e cavalleria potete andare attaccare attaccare questi anche questa è un'altra cavalleria ok e abbiamo vinto vabbè come non detto ragazzi abbiamo già vinto questa è stata comunque bella devo dire questa è stata assolutamente bella cerchiamo di andarli a prendere tutti naturalmente il generale nemico è schiantato perfetto vai vai cavalleria andate assolutamente ad attaccarli tutti sono scappati in massa e perché in realtà erano ancora tanto numerosi però hanno visto la nostra supremazia e hanno detto no ok qua è meglio se ci eleviamo dai ball perché non è cosa assolutamente restare qua sul campo di battaglia quindi vabbè direi che comunque ormai questa è andata l'abbiamo devo dire sfruttata bene perché comunque abbiamo fatto tutto il secondo esercito ci poteva anche non servire sinceramente direi che possiamo terminare per l'appunto questa battaglia vediamo che infatti il loro generale viene infilzato e abbiamo per l'appunto recuperato la città per cui anche questa la occupiamo questo è cascato anche questo esercito giustamente e quindi abbiamo penso a questo punto distrutto completamente la la loro fazione no perché mi pare avessero solo questo insediamento se non ho visto male vediamo un attimino la confederazione ma confederazione celtica no perché loro in realtà sono qua originari è vero loro in realtà sono qua si erano spostati in questa zona ma loro in realtà sono laggiù addirittura quindi va bene va bene va bene no problem allora abbiamo il fabbro il fabbro assolutamente lo voglio fare perché dall'armatura di livello 1 l'armatura di livello 2 l'altro cos'è che era cittadina costruttori di scudi ok no però io farei il fabbro sinceramente facciamo il fabbro questo lo smantegliamo perché abbiamo già comunque una struttura direi di fare questo che ci dà 4 al cibo ok quanto stiamo siamo comunque un più 33 quindi direi che nonostante tutto va assolutamente bene stiamo guadagnando 19.000 per turno abbiamo 126 di cibo quindi mamma mia tanta tanta roba allora quasi quasi o questo esercito lo riporto qua perché non ha senso tenerne due addirittura qua quindi francamente loro terrei lì sì purtroppo l'unica cosa la cavalleria quella che si è portata a spasso la cavalleria tarantina io non me ne era accorto quell'unità se l'è portata a fine mappa e me l'hanno decimata però è stata una svista mia per il resto appunto la battaglia direi che è andata assolutamente assolutamente bene va bene gente allora dai io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato a total war rom 2 abbiamo preso anche questa città e quindi di questa provincia ci mancherebbe questa che però adesso cavolaccio è passata pergamon addirittura e questo è un problema a meno che la confederazione gallica non riesca a riprendersi questa città io al momento non la posso conquistare perché c'è pergamon di mezzo quindi non posso ovviamente dichiarare guerra pergamon perché comunque è un nostro alleato quindi già siamo passate disoneste non ho capito il motivo visto che comunque avevo tolto tutti i contratti a loro e ho fatto passare comunque un po di turni forse erano troppo pochi e quindi siamo scesi però recupereremo comunque nei prossimi gameplay prima di chiudere diamo solo un occhio un attimo alla politica giusto per capire come sta andando siamo al 52 per cento quindi siamo un risalitivo e prima eravamo scesi al 51 per cui direi che va assolutamente assolutamente bene la promozione velton e direi che è servita e quindi ha avuto anche il suo effetto va bene gente allora io direi che posso concludere qua questo nuovo in predicato a total war rom 2 come sempre fatemi sapere nei commenti che cosa secondo voi è meglio fare come detto lascerei perdere solo momentaneamente il discorso dell'africa perché abbiamo massiglia che come detto è e come avete visto una fazione che è diventata veramente enorme e vorrei piuttosto fare il giochetto che ho fatto con roma quindi cercare di magari si dichiarare guerra ma andare a mandargli contro prima un bel po di altre fazioni per insomma indebolirla parecchio per poi magari insinuarmi o diciamo tra la guerra appunto alla fine andargli a conquistare tutti i territori come appunto abbiamo fatto con roma per il momento io starei su piccole conquiste magari di una città per volta dobbiamo però capire o dichiaro comunque guerra la confederazione gallica mi prendo questi territori qua e o se no mi sposto proprio decisamente più a nord tipo contro gli anarti ad esempio che rimangono comunque sempre confinanti alle nostre terre per l'appunto qua a nord se no poi addirittura c'è i ribelli germanici ci sono i cimbri e non lo so è da da valutare un attimo comunque naturalmente come sempre seguirò i vostri consigli che mi darete qua sotto nei commenti quindi ragazzi io con questo concludo vi ricordo come sempre lasciare un sacco un sacco di like condividete commentate iscritti al canale se non siete iscritti se vi va seguite anche su instagram lo trovate qua sotto in descrizione detto questo vi saluto noi ci riusciamo al prossimo gameplay ciao belli